Novità alla funicolare della Mendola. Nasce una fermata intermedia che consente ai gitanti un collegamento diretto con l'alta via di Caldaro. Vediamo. I passeggeri della funicolare della Mendola potranno avvalersi di una stazione intermedia. In tal modo i gitanti diretti a monte verso l'alta via di Caldaro disporranno di un collegamento diretto. Per consentire la fermata a mezza via nelle immediate vicinanze della galleria poco prima del punto di incrocio è stata predisposta una rampa di discesa. Chi intende avvalersi della fermata deve renderlo noto al conduttore prima di mettersi in viaggio. Per ragioni di natura tecnica la fermata è possibile solamente nella direzione verso monte. Il costo del biglietto resta invariato nonostante il tragitto abbreviato. Con la possibilità di fermata, spiega l'assessore provinciale alla mobilità Thomas Wittmann, si ottiene una valorizzazione della funicolare dal momento che consentirà a residenti e turisti di raggiungere comodamente il sentiero dell'alta via di Caldaro.